Nello Stato che battezzava l'avvio della corsa per le presidenziali, Hillary Clinton giocava su un terreno particolarmente sensibile. Otto anni fa era stata battuta qui da Barack Obama, oggi i risultati dei cocos le danno un leggero vantaggio. In questo piccolo Stato, con una popolazione che supera di pochi 3 milioni di abitanti, Clinton la spunta di un soffio sul principale avversario, il candidato Bernie Sanders, senatore del Vermont, il più anziano partecipante alla sfida dall'alto dei suoi 74 anni. Hillary Clinton ha ottenuto circa il 50% delle preferenze degli iscritti al partito, Sanders la insegue a ruota con poco più del 49%, Martin O'Malley si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca.